Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro dove parleremo di cultura, rigenerazione urbana, ma soprattutto di periferia. Grazie per essere qui, grazie al circolo di elettori che ci ha ovviamente ospitati. Prima di iniziare a presentarvi gli ospiti, vi accenno soltanto che laggiù al fondo abbiamo un tavolino con un progetto legato all'apicoltura che stiamo portando avanti sul quartiere di Falchera, una raccolta fondi per reinserire 10 persone con problemi. La nostra raccolta fondi è arrivata a 2.500 euro, dobbiamo arrivare a 5.000 euro, quindi poi se qualcuno fosse interessato possiamo più tardi approfondire il tema. Allora, innanzitutto parto col presentarvi quindi gli ospiti. Abbiamo sulla sinistra l'assessora Carlotta Salerno, assessora alle periferie, progetti di rigenerazione urbana, politiche educative giovanili, materie relative all'istruzione della città di Torino. Benvenuta. Poi abbiamo l'assessora Rosanna Purchia, politiche culturali, musei e biblioteche, attività e manifestazioni culturali e archivio storico della città di Torino. In collegamento, adesso qui non si vede, tra poco lo vedrete suppongo, c'è il giornalista Paolo Morelli che si occupa di tematiche sociali, comunicazione, ma soprattutto lavora sui territori della circoscrizione. perché innanzitutto abbiamo voluto organizzare questo evento? Perché è palese che una città non può avere delle zone che vanno a due velocità. Torino su questo argomento sta lavorando tanto, quindi con argomenti legati alla cultura, alla rigenerazione urbana. Motivo per cui vorrei iniziare dando la parola all'assessora Salerno con una domanda. Lei è stata per cinque anni presidente della circoscrizione 6, quindi una domanda che potrebbe sembrare banale. Cosa significa rigenerazione urbana con questa esperienza alle spalle e adesso soprattutto avendo un ruolo legato alla rigenerazione sulla periferia. Grazie, innanzitutto buonasera a tutte e tutti. Sono molto felice di essere qui e di essere qui con Rosanna perché ci piace molto lavorare insieme e fare progetti concreti insieme. In realtà la domanda non è affatto banale perché io credo che non ci sia una risposta univoca al concetto di rigenerazione urbana. Se ci fosse una risposta univoca e lineare non sarebbe complicato com'è mettere in atto processi di rigenerazione urbana che aiutino, sostengono e modifichino in qualche modo strutturalmente il tessuto in forza di un percorso di miglioramento e di crescita e di sviluppo per il territorio duraturo. Perché spesso gli interventi di rigenerazione urbana si infrangono poi sul medio-lungo periodo perché se non sono adeguatamente supportati con le progettualità che continuano o se non si innestano sul territorio in maniera armonica rispetto all'identità stessa del territorio, quello che succede è che poi creano delle cattedrali nel deserto che non sono necessariamente fisiche, anche cattedrali progettuali nel deserto. Quindi in realtà il concetto di rigenerazione urbana è un concetto estremamente composito su cui tra l'altro la città di Torino lavora da moltissimi anni e lavora da molti anni in modo molto positivo portando avanti delle progettualità che poi sono state faro anche in Europa dal punto di vista della rigenerazione urbana. In alcune situazioni si sono ottenuti effetti appunto molto evidenti anche molto duraturi, in altre situazioni invece c'è stato un maggiore sfrido con il territorio e quindi una mancanza di armonia che ha determinato appunto la difficoltà a far durare nel tempo e la progettualità di rigenerazione stessa. Credo personalmente, allora nella sfida che mi è stata data con l'attribuzione delle deleghe, abbiamo detto col sindaco che abbiamo legato istruzione, quindi scuola e rigenerazione urbana, intendendo la scuola come il primo luogo, il primo motore della rigenerazione urbana. Quindi il luogo della scuola, luogo fisico da un lato perché non c'è contenuto senza contenitore, ma anche tutto ciò che accade nella scuola e intorno alla scuola, le dinamiche delle famiglie, delle bambine e dei bambini, l'intorno, il fatto che le scuole comunque se vengono aperte al territorio sono degli incredibili fari che tengono il territorio acceso, ecco siamo partiti dalla riflessione che il primo motore della rigenerazione urbana è una scuola che funziona, una scuola che risponde alle esigenze del territorio, una scuola che ha la capacità di costruire e di guardare lontano e di guardare al percorso che deve intraprendere con le bambine e con i bambini e con le ragazze e con i ragazzi, quindi sicuramente un primo tassello è quello. Abbiamo un tassello fondamentale che è il tassello fisico perché non c'è rigenerazione se non c'è decoro, le persone chiedono come è giusto decoro urbano, decoro urbano anche molto semplice, quindi non c'è rigenerazione se non c'è cura della città, se non c'è la percezione di una città pulita con le strade a posto, quello è il primo senso di un luogo curato e che quindi si può affacciare all'irigenerazione e poi abbiamo tutto l'elemento invece dei processi di rigenerazione urbana che sono i processi che hanno la capacità di prendere il meglio dei territori e aiutarlo a crescere, aiutarlo a svilupparsi. Una cosa su cui abbiamo lavorato anche in precedenza, cioè in precedenza era una protesta che facevamo come circoscrizioni di cui abbiamo chiacchierato con Rosanna che ha attuato il meccanismo esattamente opposto a questa protesta e quindi venendo incontro a quello che dicevamo continuamente, ovvero che si sbaglia quando si crede di dover innestare nei territori periferici qualcosa che venga da fuori e dal centro, soprattutto in materia culturale, quindi prendo qualcosa di esterno e lo devo creare un innesto o comunque devo portare come se fosse qualcosa di esotico. Secondo me il primo motore di rigenerazione urbana è che su qualunque fronte sociale, socio-economico e culturale si valorizzi, si faccia crescere, si diano reali possibilità a ciò che di autoctono c'è nel territorio, perché poi in ogni quartiere abbiamo le peculiarità, abbiamo le caratteristiche umane di composizione rispetto anche all'età, rispetto alla storia stessa del quartiere, i nostri quartieri hanno tutti identità molto forti, storiche rispetto proprio a come si sono formati anche rispetto alla storia di Torino. Ecco, quello che dobbiamo fare per attuare dei processi di rigenerazione è quello di prendere ciò che c'è, il meglio e aiutare questo meglio a svilupparsi, ad avere solidità e a crescere e a poter coinvolgere la maggior parte di territorio possibile intorno a sé. L'ultimo elemento, e poi chiudo per questa parte per non farla troppo lunga, è la capacità e la possibilità di coinvolgere più persone possibili in questi processi, cioè a volte i processi di rigenerazione urbana o comunque quelli che attuiamo belli, ma prendono fasce molto limitate della popolazione, perché è difficile intercettare le persone, non perché ci sia un difetto, non perché ci sia una scarsa volontà, tutt'altro, ma è complicatissimo in questi ultimi anni men che meno. Come intercetto per esempio le ragazze e i ragazzi che non studiano e non lavorano e spesso sono chiusi in casa? Cioè, citofono. Quindi la sfida veramente grande è come arrivo alle persone, come raggiungo coloro che da questi processi di rigenerazione non sarebbero naturalmente interessati, perché c'è chi è ricettivo, chi si guarda intorno, chi magari ha sorpresa l'anziano. Io poi, appunto, la mia esperienza forte è sulla 6, ma avevamo l'anziana che andava a fare la spesa e che aveva una vita, come dire, sicuramente non associativa, ma le antenne drittissime rispetto a ciò che accadeva, il monitoraggio dei cambiamenti, della panchina, della strada. Ma c'è chi invece a questi processi non è naturalmente interessato e quindi la domanda è come facciamo a raggiungere queste persone e soprattutto a condividere con loro quello che è il nostro senso di rigenerazione, quello che è il processo che vogliamo attuare. Grazie. Grazie Assessora Salerno e di conseguenza io adesso rimbalzo la domanda all'Assessora Purchia, però con un'altra accezione. Quando parliamo di valorizzare il territorio, di cosa stiamo parlando e cosa vuol dire poi nel concreto? Ma allora intanto siamo, posso dire, perché veramente lavoriamo molto bene insieme anche se ci conosciamo da pochi mesi e molto felici di essere qui e di condividere con voi un lavoro nel quale crediamo moltissimo e che ha già dato, dico in pochissimi mesi, molti risultati concreti. Allora i bisogni del territorio. Intanto siamo partiti dal presupposto che uno non bisogna ghettizzare. Certo, siamo partiti dalle circoscrizioni perché sono parte integrante della nostra città. Uno. Due, siamo partiti dal presupposto che noi nel momento in cui iniziavamo a lavorare dovevamo con lo stesso credo metterci a lavorare per trovare gambe e soluzioni. Tre, dimenticavo, non dobbiamo inventare nulla perché Torino e il territorio torinese è un'esplosione reale di cultura, di animazione, di creatività, di giovani sani che dobbiamo solo far crescere affinché diventano, invadano positivamente, contaggino positivamente tanti giovani del loro stesso territorio e non solo. Da qui è nata la nostra idea di circoscrizione al centro. Adesso forse Lorenzo vi fa scorrere un po' di slide, nessuno vi vuole annoiare, ma questo lavoro che abbiamo fatto partendo dalla responsabilità dei presidenti, dando ruolo ai presidenti delle circoscrizioni, alle giunte delle circoscrizioni, abbiamo chiesto loro di farsi parte attiva, convocare le associazioni presenti nel territorio, abbiamo creato al Teatro Reggio un bellissimo, non abbiamo fatto convegni, non abbiamo fatto chiacchiere perché non abbiamo bisogno di questo, abbiamo messo lì otto tavoli di lavoro, ogni tavolo c'era il presidente della circoscrizione, le associazioni da loro invitate e hanno diciamo elaborato un documento di bisogni, di realtà, di necessità. Da questo lavoro noi abbiamo tratto una specie di mappatura che non è esaustiva, attenzione, perché in corso d'opera, certo l'abbiamo voluta fare veramente in pochissimo tempo, abbiamo iniziato, voi sapete, abbiamo iniziato a lavorare a novembre, abbiamo il primo incontro l'abbiamo fatto il 18 dicembre, quindi insomma stavamo ancora capendo dove ci trovavamo, poi non c'erano solo queste emergenze e quindi il tempo era poco e abbiamo man mano lavorando, vero Lorenzo che è qui in sala, capito e ricevuto telefonate di associazione che per affanno delle stesse circoscrizioni, ma devo dire anche, Carlotta permettimi, di una certa disabitudine dei presidenti ad essere chiamati in prima persona a espletare il loro ruolo. Quindi erano, diciamo, anche loro un po' disorientati da un metodo che avevamo un po' condiviso con Carlotta e quindi strada facendo molti altri, quindi abbiamo, continuiamo a scoprire mondi, in realtà io stesso lo devo fare uno perché ovviamente la mia indole e il mio passato professionale mi portano a questo tipo di curiosità e di interesse e due, principalmente perché nella mia veste è mio dovere farlo, giro, vedo, ascolto, vedo spettacoli e trovo ogni volta una reale sorpresa, tutto un mondo fatto da giovani, dai 30 anni in giù, professionisti che fanno dei sacrifici pazzeschi, che si costruiscono i teatri, che aprono dei teatri, cioè è un mondo del quale, devo essere sincera, io sono profondamente innamorata e quindi il fatto di mettere a disposizione il mio lavoro, magari anche un po' la mia esperienza a loro disposizione e Carlotta da parte sua, con tutto il suo mondo, la sua esperienza nel mondo delle circoscrizioni, il mondo della scuola che è fondamentale, abbiamo creato una sirergia e un gruppo di lavoro, non solo io e lei, ma tutti i collaboratori che sono dietro di me e dietro di lei è un po' una squadra, devo dire, secondo me rara, una squadra, ma non la squadra che lavora, certo, dobbiamo lavorare, è il nostro dovere, quindi non è che facciamo niente, abbiamo lavorato, hai fatto un quarto del tuo dovere, cioè niente di più, niente di meno. Parlo di squadra nel senso di comunità di intenti ed è venuta fuori, non so se le slide arrivano perché questo mi interessa farvelo vedere, abbiamo creato una mappatura dove abbiamo visto dei picchi nella nostra città, non chiamiamo più circoscrizioni perché è la nostra Torino, dove, vabbè, poco male, abbiamo visto quanto siano, diciamo, diffuse e in che maniera le attività culturali nella nostra Torino, scoprendo che ci sono parti di Torino, che devo definire col numero la 6, la 7, dove c'è esplosioni, poi improvvisamente e misteriosamente la 2 e la 3, cos'è successo lì? Questo è stato importantissimo per noi, ma perché tutto questo lavoro, all'atere di questo lavoro, perché poi va bene fare tutti gli studi, le mappature, le cose, poi, cioè, il territorio chiede e allora che succede? Quindi abbiamo all'atere fatto un lavoro, devo dire, del quale noi andiamo molto orgogliosi perché le risorse economiche della città, quelle ordinarie, sappiamo che sono quelli che sono, in un momento in cui non avevamo un bilancio approvato, quindi non potevamo in nessuna maniera, anche avendole distribuire risorse, le abbiamo trovate fuori, le abbiamo trovate fuori dal bilancio ordinario del Comune. Da una parte abbiamo partecipato a un bando europeo che ci ha dato risorse per un milione e mezzo, un'altra parte ci siamo messi a cercare sponsor che ci ha dato risorse per 600 mila euro. Un'altra parte il Ministero della Cultura ha ridistribuito proprio con l'obiettivo dei territori un 22 milioni che sono stati ridistribuiti in tutte le città metropolitane d'Italia proporzionalmente ai loro abitanti. A Torino è capitato un milione e nove, che male non è. Quindi la somma di tutto questo fa 4 milioni di euro, una cifra che non lo dico io ma me lo sento dire da Carlotta, me lo sento dire dai collaboratori, me lo sento dire dai funzionari, me lo sento dire continuamente dalle persone che incontro, 4 milioni di euro tra il 22 e il 23 che le associazioni, quel mondo così vivo, così importante e culturale non aveva mai visto con questa entità, se non magari due, tre, quattromila, cinquemila, insomma quello che potevano fare le circoscrizioni e quello che poteva fare la città di Torino. Questo perché? Perché vuol dire dargli gambe, vuol dire dire adesso c'hai una progettualità che c'ha due anni, i bandi sono online quindi voglio dire avremo entro maggio attribuiremo le risorse, vedendo e ci darà ancora una mappatura nella mappatura, ne parlavo stamattina, la mappatura nella mappatura ci farà vedere quanto questo mondo culturale così attivo è uno pronto ad una progettualità alta con risorse che loro non hanno diciamo così di questa entità tutte insieme non sono abituati a gestirle, due perché uno dei requisiti premianti dei nostri bandi la capacità di fare rete, parola abusatissima, diciamo abbiamo fatto rete, abbiamo fatto rete, abbiamo fatto partenariato, vabbè ok, no quello è un requisito concreto dei nostri bandi quindi la capacità di mettersi insieme e dico anche di più di fare in modo che quelli più piccoli, quelli più radicati del territorio, la capacità di stendere una mano alle associazioni più piccole che sono poco attrezzate, poco pronte e questo vediamo quanto anche la cultura di Torino, vedremo, saprà essere generosa perché io dico tutti siamo nati piccoli poi qualcuno ci ha dato una mano a diventare grandi quindi il requisito premiante della capacità di mettersi insieme per fare dei progetti importanti è uno dei nostri obiettivi. Concludo perché non voglio tediare e anche siamo convinte che non sceglieremo, che non, cioè che potremo sbagliare nelle scelte, assolutamente la verità non ce l'abbiamo né io né Carlotta, siamo assolutamente convinte che in questo panorama magari stiamo abbracciando un progetto, non abbiamo paura di questo, non abbiamo paura perché vuol dire che dovremo nel nostro percorso cambiare leggermente la rotta, quindi abbandonare chi non è stato all'altezza della sfida e quindi vuol dire che se non lo era prima e non lo è adesso non lo sarà neanche domani e magari andare a scoprire delle altre realtà che in questo momento non ci sono, magari non sono state veramente all'altezza o per vari motivi o tecnicamente o progettualmente di vincere questi bandi che è la maniera, le manifestazioni pubbliche, la maniera più trasparente di distribuire fondi, quello che però noi vogliamo fare, stiamo lavorando con Carlotta, qua veramente mi taccio, stiamo lavorando con Carlotta per una revisione del cosiddetto bando contributi, per una, sappiamo che i termini di legge sono termini di legge, la trasparenza pubblica è un obbligo e noi siamo ben felici che ci sia, ma dobbiamo trovare un meccanismo più agile che proietta verso avanti, non si può continuare a vivere alla giornata. In questo momento questa esigenza, al di là che è una forte volontà del nostro sindaco, però mi stavo dimenticando di dire una cosa importante che ha detto Carlotta, poi veramente mi sto zitta. Cioè Carlotta ha detto una cosa importante, non c'è cultura se non c'è un luogo rigenerato. E qui dobbiamo dire, grazie al nostro sindaco che ci ha seguito, ben 110 milioni di euro di PNRR della città metropolitana, per scelta, le criticità di Torino sono tante, quindi voglio dire, non credo che il sindaco avesse l'imbarazzo della scelta di dove investire questi soldi, ma lì è stata una scelta di politica culturale, politica con la P maiuscola, culturale con la C maiuscola, dove questi 110 milioni di euro, tutti vengono, diciamo, investiti partendo dalla cultura. Quindi le biblioteche di Torino, che vuol dire cultura, e la biblioteca, tutto quello che c'è intorno alla biblioteca, la scuola, il teatro, il parco, magari un campo sportivo, quello di pensare al benessere dell'uomo. E anche questo è cultura. Giusto, sto zitto. Grazie. Grazie mille, assessora. Quindi diciamo che, se dovessimo fare la somma di due commenti, si capisce che non è una questione di esportare, o comunque immettere dall'esterno cultura, nuove attività, ma si tratta in realtà di investire, con l'intenzione di riuscire a scovare, a dare la possibilità alle realtà del quartiere, e alle persone che lo vivono, di creare qualcosa. Quindi adesso passo la parola a Paolo Morelli, con una domanda. Tu lavori tanto? Ci vede lui? Paolo. Eccolo lì. Ci senti, Paolo? Vi vedo. Ok. Vi vedo e vi sento. Ok, buonasera di nuovo. Quindi la domanda era, tu lavori sul territorio? Buonasera, assessore. Buonasera a tutti. Tu lavori sul territorio, scrivi del territorio, tu senti che, come dire, la cultura, e quando si parla di rigenerazione urbana, c'è un sentire, da parte della cittadinanza, di queste tematiche, di questi lavori? Intanto grazie per avermi invitato, e per portare la mia esperienza. Sicuramente rispetto a quello che hanno detto le assessore, io vorrei aggiungere una parola, che è la parola comunità, che un po' riassume anche quello che ci siamo detti. Nei quartieri abbiamo visto che ci sono forze, ci sono storie, ci sono tradizioni, c'è un attaccamento che sicuramente va indietro nel tempo, anche di decenni, anche di un secolo. Quindi i quartieri torinesi, hanno delle loro storie particolari. La suddivisione in circoscrizioni, chiaramente è una questione amministrativa, ma all'interno delle circoscrizioni, ci sono quartieri che hanno delle identità, anche molto definite. Quindi sicuramente quando si parla di rigenerazione, stiamo presupponendo una generazione, quindi qualcosa che già è nato, generazione nel senso di generare. I luoghi sono fondamentali, questo è evidente, però sicuramente c'è una comunità di riferimento alla quale bisogna rivolgersi per lavorare sul territorio. Posso portare la mia esperienza da questo punto di vista. Io da un paio d'anni lavoro sui quartieri, insieme al libraio Rocco Pinto. Devo dire che il progetto è nato durante il primo lockdown, quando eravamo un po' tutti chiusi in casa, non ci potevamo muovere, dovevamo trovare qualche cosa in grado di unirci, di unirci lo stesso, farci sentire vicini. Ecco, la prima cosa che ci è venuta in mente è stata il quartiere. Il quartiere, sia per chi ci abita, sia per chi lo conosce o ci ha abitato negli anni, è comunque una cosa che definisce, che crea un'identità di cittadino, un'identità nelle persone, nelle storie. Siamo partiti da Borgo Rossini, che è il nostro quartiere, quello dove io abito, dove Rocco Pinto ha la sua libreria. Abbiamo creato un libro, che si chiama Borgo Rossini Stories, uscito per Grafotte, e poi siamo andati avanti. Abbiamo fatto due edizioni di Borgo Rossini e abbiamo fatto Barriera Stories. Ecco, io volevo portare due esempi proprio da Barriera Stories, visto che è anche un territorio, quello di Barriera di Milano, molto interessante, e abbiamo potuto vedere che lavorare sul quartiere ti consente di conoscere la città. Barriera di Milano, in questo caso, è sicuramente un quartiere che un po' va a riassumere qual è stato lo sviluppo di Torino, diciamo, dal dopoguerra in avanti. È interessante, ci sono dei racconti, spiego brevemente come funziona. Noi facciamo una chiamata ai cittadini che condividono con noi dei racconti scritti da loro oppure possiamo anche raccoglierli noi, però tendenzialmente scrivono loro, abitanti, ex abitanti, commercianti, conoscitori di quartieri. Vi ricordo uno che arrivò addirittura a Vercelli, ex abitante Barriera di Milano, che arrivò alla presentazione del libro, l'aveva letto due ore prima online, perché c'è questo attaccamento di cui vi parlavo. Ecco, raccogliendo le storie di chi conosce i quartieri, e riusciamo a scoprire anche qualche cosa di nuovo, qualche cosa di diverso, qualche cosa che magari non immaginavamo. Mi aveva colpito molto un racconto che parlava dell'ospedale Giovanni Bosco prima della sua costruzione, raccontando che lì c'erano campi, c'erano cascine. Però si ritrovano anche punti di aggregazione. Ad esempio, c'è un racconto di, scusate, lo prendo in mano, perché così mi è più facile farvi degli esempi. C'è un racconto di Davide Cattaneo che parla dei bagni pubblici, no, scusate, di Via Baltea. Via Baltea, che è sicuramente un punto di riferimento per il quartiere Barriera di Milano, quindi ci racconta anche che cosa succede in Via Baltea e quali sono le storie che si trovano in Via Baltea. Il mio lapsus era motivato dal fatto che c'è anche un racconto sui bagni pubblici di Via Lier. Anche in questi c'è un racconto di Erika Mattarella, molto interessante, che ci fa scoprire quali sono le storie che si incrociano, persone che vanno lì e cercano contatti con altre comunità, nuovi arrivi, persone straniere, persone che vengono da altre città, banalmente, che trovano in realtà, come bagni pubblici, come Via Baltea, qualche cosa che consente loro di inserirsi in un tessuto. Ed è qui che torniamo al discorso della comunità. La comunità serve per accogliere, la comunità serve per mettere in contatto persone diverse, per lavorare sul territorio. Un altro esempio che vi faccio è il racconto di Davide Gambaretto, che ci parla anche dell'arte. Parla sicuramente dei sapori, dei colori, quindi c'è un riferimento al mercato di Piazza Foroni, che è un pezzo di storia della città, sicuramente, ma parla anche di arte, perché Barriera di Milano ha una sua connotazione legata all'arte. Naturalmente non solo quello, c'è tanto altro, però questo è un esempio molto interessante. Associazioni che sul territorio lavorano, che lì nascono e che producono, perché lavorare sul territorio vuol dire produrle, vuol dire creare contenuti, creare storie, relazioni e vi posso dire che con questi libri io ce li ho qua, insomma, è anche emozionante delle volte prenderli in mano. Ora stiamo lavorando su Porta Palazzo, poi lavoreremo su Santa Rita, usciremo da Torino, andremo a Sparone, in Valle Orco, quindi insomma è una cosa che si può riproporre e le persone non vedono l'ora di raccontarsi, di raccontare i loro quartieri. C'è un amore viscerale per i quartieri torinesi, ma questo naturalmente si applica a tutti i quartieri di tutte le città. Dobbiamo partire un po' da quello. La prima cosa che accomuna una comunità, scusate il gioco di parole, è il luogo. Qui torno al discorso che faceva prima la signora Salerno. cioè il luogo è fondamentale perché servono punti di ritrovo, punti dove stare, punti dove produrre, punti dove incontrarsi, perché le comunità funzionano in questo modo. Ultima cosa, poi chiudo, lascio la parola a voi, poi magari se c'è tempo ci torniamo. la cosa più interessante che è nata da questo progetto, progetto Stories che viene, prima non l'ho detto, pubblicato dall'editore Grafot, è una collana che portiamo avanti con l'associazione Ponti di Parole. La cosa più interessante è che questi libri, cioè il libro è un oggetto che viene dopo. La cosa più importante è il racconto collettivo che si costruisce e diventa quasi un documento. Noi possiamo utilizzarlo per partire e approfondire in una direzione o in un'altra, fare in un secondo momento anche un lavoro storico, quello si può fare. Prima si è parlato, adesso non ricordo quale delle due assessori ha citato il rapporto un po' con il territorio, con il fare rete, forse l'assessora Purchia. fare rete è anche questa cosa qui, mettere insieme le persone, far sì che si raccontino e scoprire insieme pezzi di memoria che si rischiava di perdere. Anche la memoria è fondamentale. L'ultima battuta vi posso dire che su Borgorossini Stories noi arriviamo fino all'inizio del 1900. Grazie. Grazie Paolo e quindi io a riprendere adesso in base a quello che ha detto Paolo una parola, attaccamento. Perché questo? Perché non mi sono presentato prima, io sono Damiano Grilli e ho fondato il Falchera Lab che su Falchera porta avanti attività sociali, eventi e vi discorrendo. Perché attaccamento? Perché alle volte sui social quindi su Instagram o su Facebook riceviamo dei messaggi da delle persone che ci dicono ah bello quello che state facendo sul territorio ho lasciato Falchera 30 anni fa e quindi fa riflettere come ci sia appunto questo attaccamento questo percepirsi del territorio senza poi calcolare che ci sono dei luoghi come giustamente diceva l'assessore a Salerno dei contenitori dove le persone si ritrovano a Falchera ad esempio c'è il discorso del lago quindi fare rete sicuramente nel nostro caso ad esempio significa cercare di unire tutto quello che già diverse associazioni stanno facendo farle comunicare ad esempio l'ultima attività che abbiamo portato avanti come Falchera Lab è stato un murales murales che abbiamo prodotto con un artista di strada Karim è che attualmente è esposto dentro la scuola Leonardo da Vinci quindi un progetto che viene dalla strada per la scuola per i ragazzi cioè immaginatevi una parete grossa così prima era arancione adesso c'è un murales mannaggia non ho portato la foto ma se andate su facebook la trovate perché come immagini di copertina un pesce e un'aquila anzi un falco per rappresentare il quartiere perché se chiede alle persone cosa rappresenta Falchera il lago lago che attualmente è stato bonificato che attualmente è motivo d'orgoglio per i falchiaresi perché possono vantare un luogo dove possono dire sì è vero Falchera è stato questo è stato quest'altro di Falchera si dice abc però adesso noi a Falchera abbiamo un lago abbiamo il lago di Falchera dove si può andare in bicicletta dove ti puoi godere non lo so gli eroni le papere e quindi le persone come dire se hanno attorno come si diceva prima un ambiente come dire a cui uno dà valore loro prendono valore e di conseguenza magari hanno anche molte più opportunità per fare cose per darsi modo di creare cose per il quartiere io adesso giusto per non andare troppo sul lungo chiederei prima all'assessora Purchi e poi all'assessora Salerno quindi gestitevi un po' voi senza due cose prima c'era se possiamo tornare indietro con le slide ah no non so io la regia ah io no ok quella prima con il grafico delle montagne sì io voglio tutte le slide che fanno vedere quante sono esatto quella lì quella lì quella lì esatto 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 ospite litiga con il guarda lì che si vedono le tipologie delle tipologie eh sì 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 no questo è molto interessante ma quella quella di prima quella di prima perché colpisce perché se voi se voi guardate fanno comunella attenzione se voi guardate la quantità di associazioni per abitante la circoscrizione se è quella con il valore più alto in percentuale e di conseguenza chiedo prima la Purchia e poi all'assessora Salerno questo valore ce lo si può aspettare c'è forse un come dire un retroscena una qualche motivazione forse sono la persona meno indicata per rispondere uno perché mi dispiace non sono di Torino e quindi vivo a Torino amandola profondamente orgogliosamente ma da appena 17 mesi talmente una full immersion che mi sembrano 17 anni perché c'è questo perché secondo me quello è stato ma è una mia sensazione non viene da un'analisi la mia analisi è quella che non è detto che non sia che non vada bene nel senso proprio perché abbiamo una visione esterna magari no no ma voglio dire va benissimo però secondo me è una di quelle di quei territori dove è per una incredibile no l'ha detto prima Paolo prima parlando dei quartieri dell'amore dei quartieri il radicamento a quel territorio è risultato nonostante tutto nonostante l'industria nonostante tutto l'emigrazione eccetera eccetera più forte culturalmente negli altri e quindi ha prevalso e altri territori ribadisco per me è stata una triste sorpresa la 2 la 3 che dovrebbero per anche tipologia di abitanti per tessuto essere più vive da un punto di vista che potrebbero osare di più e allora il nostro lavoro è lì perché le faremo osare aiuteremo la 6 ovviamente che ha il top 10 se no poi Carlotta si arrabbia non scherzo ma sicuramente noi dobbiamo fare in modo di riequilibrare questo grafico perché la potenzialità di Torino è enorme da questo punto di vista veramente enorme rara rara e quindi per me è stata devo essere sincera me l'aspettavo però e sapevo già pur non essendo di Torino non avendola frequentata per tanti anni eccetera i miei collaboratori ve lo possono dire sono sicura che la 6 è quella più alta vocazione culturale un po' per così humus che avevo sentito persone che avevo incontrato non occupandomi di questo lavoro ma occupandomi di altro reggio mentre invece Carlotta invece può rispondere con molta più cognizione di causa di me prego di conseguenza sì passiamo la parola all'assessore Salerno e in più oltre a commentare questo discorso qua io direi anche visto che parliamo di Torino e siamo di Torino oltre alla 6 in generale su Torino cosa possiamo vantare come eccellenze di attività sul quartiere allora qualche anno fa pochissimi quando ho cominciato a fare attività diciamo nell'associazionismo intorno ai 20 anni una delle prime esperienze di fronte a cui mi sono trovata credo fosse il 2002 furono i percorsi di teatro e comunità a Torino quindi i percorsi che partendo da progettalità e da fondi c'è Maltese lì i progetti che sostanzialmente coinvolgevano una serie di associazioni cittadine praticamente tutte le associazioni che volevano si manifestassero su progetti di teatro e creazione di comunità col quartiere quindi lo strumento del linguaggio artistico corporeo dell'espressione artistica per quello io mi trovai in questa dimensione mi trovai in questa dimensione sulla 6 in cui che è il posto in cui avevo fatto avevo iniziato a fare attività cioè io nasco lì fisicamente nelle case col bagno sul ballatoio di Corso Palermo poi i miei genitori andarono via si trasferirono però io poi tornai a fare attività lì nella zona di Via Leoncavallo e la prima cosa che decidemmo di fare fu una mappatura delle associazioni scoprendo il numero mostruoso di associazioni che c'erano soprattutto sul territorio della circoscrizione 6 e in parte della circoscrizione 7 generalmente l'associazionismo non solo culturale l'associazionismo in generale è un anticorpo è una risposta anticorpale a una situazione come dire che viene percepita dalla comunità come possibilmente critica barra intrusiva quindi Barriera di Milano ha reagito con gli anticorpi a quelle che erano le derive xenofobe già allora per l'immigrazione degli anni 60 e reagì con gli anticorpi per stare vicino alla comunità perché la comunità era fragile aveva bisogno perché c'erano gli immigrati dal sud Italia perché erano spaventati perché erano soli perché andavano in Barriera di Milano perché non gli affittavano le case dalle altre parti perché per esempio in circoscrizione 2 quindi in Santa Rita o nelle parti di Mirafiori andava chi era già un attimo messo meglio e quindi che aveva già una situazione leggermente migliore mentre in Barriera arrivava chi magari aveva 5, 6, 7 figli non trovava da nessun'altra parte poi ovviamente cominciarono ad avvicinarsi tra di loro le comunità regionali per stare vicino a persone che conoscevano le famiglie quindi arrivano la comunità dei cerignolani arrivò la comunità non solo di Cerignola la comunità di Corato insomma tutta la parte pugliese allora quando come dire il tessuto poi c'era un tessuto operaio in quel caso anche politicamente profondamente di sinistra quando il tessuto si trova a doversi unire perché lo Stato c'è poco parliamo di anni in cui come dire la risposta dello Stato era confusa parliamo degli anni sessanta come dire esplosione demografica della città scuole che venivano costruite nel giro di tre anni per durare cinque anni e ce le abbiamo ancora in piedi adesso perché il nostro problema sono le scuole non sono le scuole di inizio novecento sono le scuole degli anni sessanta che appunto avevano tirato su in fretta e furia perché nascevano bambini c'erano bambini ma tanto fra cinque anni le buttiamo giù e ciao grazie allora la risposta a quel bisogno di comunità fortissima perché c'era disgregazione sociale perché c'era disorientamento la risposta per fortuna positiva e meravigliosa era l'associazionismo che quindi cominciò a nascere a crescere a diventare una tradizione di territorio una tradizione tra l'altro se ci pensiamo l'articolo della Costituzione che come dire che invoca la sussidiarietà in realtà prende le mosse da ciò che di fatto era ed è sempre stato quindi i dati in realtà al di là dell'orgoglio che ovviamente portiamo ma risalgono almeno in 50 60 anni fa sicuramente le caratteristiche come dire ogni territorio ha le proprie caratteristiche che non sono necessariamente coincidenti con la presenza delle associazioni quello è l'elemento c'è un modo di ritrovarsi di riunirsi e di fare vita sul territorio che magari si esprime diversamente perché ognuno ha le proprie caratteristiche in alcune porzioni della città la 6 la 7 sulla 6 sia barriera che falchera la tradizione era nel momento in cui voglio unirmi creo un'associazione creo un partito creo una sezione di quartiere mi trovo discuto e dibattito e dibatto in alcune zone della città la tradizione è stata differente è stata su forme differenti su forme di solidarietà per esempio molto legata alle parrocchie molto legata alle comunità religiose in alcuni casi molto legata alle scuole quindi in realtà questo dato che è incredibilmente importante per tutto il percorso che stiamo facendo è un dato che ci dice la fotografia di un pezzo di caratteristiche della città ma Torino ha avuto la capacità di rispondere con questi anticorpi sociali e di comunità su ogni territorio solo che l'ha fatto secondo lo sviluppo che era del territorio ripeto le circoscrizioni per esempio due tre erano molto connotate per l'attività di riferimento rispetto alle comunità parrocchiali e anche una parte della quattro molto meno anche se sono ovviamente delle realtà importanti appunto di quello che avveniva per esempio nella sei e nella sette cosa dobbiamo fare intercettare questo tipo di percorso sempre in quello che dicevo prima cioè nel rispetto nel rispetto dell'identità quando nel 2017 Stampa scrisse un articolo nazionale dedicato ahimè perché quando scrivono di Falchera devono sempre scrivere in negativo Salvatore se lo ricorderà il cui titolo era il quartiere che è senza speranza oltre ad essere pagina prima pagina nazionale grande firma oltre ad aver avuto un colpo al cuore quando l'ho letto io poi ho provato a rispondere a Stampa con una lettera che ovviamente non è stata pubblicata ma che poi a Falchera abbiamo cercato di far veicolare Falchera in particolar modo per esempio è l'esatto contrario di un quartiere senza speranza l'esatto opposto quello è un posto in cui le panchine hanno i nomi in cui i residenti del quartiere hanno un nome per ogni panchina per ogni buca per ogni angolo per ogni albero per ogni condizione di ogni arbusto quello è il contrario di essere senza speranza è un attaccamento viscerale amoroso nei confronti di una porzione di territorio che un po' come funzionava una volta con i membri della famiglia io posso criticare quindi io che sono falcherese posso dire che Falchera ha i suoi difetti ma tu che sei di fuori non lo puoi fare allora da lì parte come dire quella che può essere la valorizzazione di un amore profondo che non ha secondo me non ha uguali un amore di comunità e di identità che non ha che non ha uguali certo che questo va unito alle sfide della trasformazione come dire sociale che ci troviamo a vivere quotidianamente no scusa caro rotta volevo dirti che secondo te adesso non è che voglio rubare me se ne so molto timidamente ma secondo te non ha influito su questa esplosione questa diciamo antidoto no questa esplosione di anticorpi sulla 6 e sulla 7 anche in parte anche grazie a tante tanta commissione involontaria di culture assolutamente sì assolutamente questo non è un dettaglio mondi che si incrociano mondi che non si amano si incrociano per necessità poi imparano ad amarsi e poi si associano secondo me una anche per rispondere alla sua domanda una grande rilevanza ce l'ha questa grande immigrazione dal sud dai calabresi ai campani ai ai pugliesi ai siciliani che hanno trovato diciamo tra virgolette ricovero in quel quartiere lì e te la dice lunga perché insomma è un quartiere che comunque li ha inclusi magari non all'inizio però li ha inclusi assolutamente sì allora io spesso come dire chiacchiero con mia nonna che ha 90 anni e vive in barriera ovviamente vive proprio alle spalle di piazza Foroni e come dire spesso cercando di ragionare insieme facciamo il parallelo tra quello che è stato il loro percorso e il percorso attuale della situazione in cui in cui si trovano e delle differenze di fronte a cui si trovano una cosa che racconto perché per me è stato significativo mio nonno aveva un negozio di biciclette che ha tenuto fino al compimento dei 90 anni adesso ne ha 93 quindi fino a tre anni fa mio nonno aveva l'ultimo negozio di riparazione di biciclette rimasto a Torino in cui veramente riparavano le biciclette c'erano i ragazzi fighetti con la bici a scatto fisso la ciclofficina no aveva la bottega anni 60 in cui si riparavano le biciclette degli operai la tenuta aperta fino a 90 anni per fare qualcosa per tenersi attivo per non chiudersi in casa ad un certo punto ha cominciato a riparare le biciclette dei venditori di rose perché li ricordavano a se stesso perché andavano lì e con 5 euro riparavano una bicicletta un po' sgangherata che li portava in giro a vendere le rose in giro per la città e poi ha cominciato a cercare qualcuno perché non si rassegnava all'idea di lasciarla la bottega e abbiamo provato abbiamo chiamato abbiamo chiamato ragazzi non c'è stato verso rispetto perché era un percorso incerto perché era faticoso e alla fine chi ha preso il posto di mio nonno? il papà di un bimbo che va a scuola di vicino marocchino che ha 37 anni che è arrivato 4 anni fa e che prima scaricava cassette al supermercato e ha detto quello mi sembra un salto e quindi adesso la bottega vive e vive perché c'è questo ragazzo marocchino che porta avanti il percorso che allora aveva preso un signore pugliese grazie a tutti